fatti avanti amore e niente succede che proprio per pochissimo sul filo di lana necca a momenti vince il festival che sarebbe buono se non fosse stato per il volo ma l'ho vinto io ciao Filippo ciao ciao Radio Bruno è più bella quando viene Filippo vorrei che venisse più spesso per tutta una serie di ragioni allora ragazzi abbiamo un'ora davanti io ve lo dico se cominciamo adesso io esco col diabete io esco col diabete se flertiamo adesso non so a mezzogiorno cosa succederà vabbè comunque io sono qui con il libro Filippo Neviani NEC a mani nude ed è un libro dove ti metti davvero a nudo intanto facciola vedere la tua mano non si stende più bene bene no non si stende rimane rimarrà così tutta la vita però insomma si chiude calcolate che queste due dita il terzo e il quarto dito in gergo proprio sarebbero poi medio anulare stavano per andare via insomma grazie al miracolo e al lavoro dei medici del policlinico insomma ci sono ancora tutte e cinque le dita ma anche il miracolo che ti ha portato a raccogliere i brandelli di dita e prendere l'automobile si molto pulp e arrivare da solo in ospedale si e beh ma guarda il la paura muove fa fare due cose o rimani bloccato immobile e non sai più cosa fare oppure fuggi scappi ti muovi reagisci è istintivo è biologico no? Esatto credo che sia una sopravvivenza difesa proprio del dell'essere umano in sé il valore aggiunto però del tuo gesto è che partivi senza un paio di vita cioè con una pesa per miracolo una ogni tanto e quindi la dovevo rimettere in sede perché si muoveva insomma lasciamo fare per carità però sono ancora attaccate sono ancora lì quindi facciamo i complimenti davvero al policlinico di modena la chirurgia della mano che ha fatto la riabilitazione e anche alla tua pazienza hai dovuto scoprire la pazienza io ti conosco da diversi anni una cosa che mi dice tua moglie è tenerlo fermo quattro minuti nello stesso posto è pressoché impossibile si annoia di tutto immediatamente costantemente da tutta la vita quindi immagino te la riabilitazione io la riabilitazione il povero francesco che saluto che ha avuto grande forse pazienza più lui di me lo chiamano san francesco san francesco esatto e ho dovuto comunque armarmi di di santa pazienza proprio perché in quel frangente o ce l'hai oppure bisogna che te la inventi perché ci sono dei tempi biologici particolari non si può pensare di uscire da un incidente di questa portata così e che dopo 15 giorni sia tutto a posto no però già il fatto di pensarlo credo che aiuti anche il fisico ad andare dietro a una testa che non rimane bloccata a uno stato di impasse capito io a detta dei medici la mia testa correva più veloce del fisico il fisico non è mai stata dietro non è mai riuscito a stare dietro a questi pensieri guarda io prova dopo un mese dalla dell'operazione suonavo il basso con l'indice perché era l'unico dito che non aveva subito forti forti traumi che per musicista lo diciamo una volta in più la mano è un particolarmente importante insomma anche perché tu sei un po l'istrumentista suoni di tutto visto che adesso suoni anche il contrabbasso in quel periodo sentivi anche spesso gianni morandi che non a caso ha scritto la prefazione del libro gianni massimo randi che chiederei ai registi sia un po offeso e risentito per la tua scelta di duettare con massimo ranieri al festival di san re ma non era una mia scelta aspetta aspetta che sentiamo 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 tutti 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 chiama no no laura chi la laura io laura come quella di neck laura non c'è sei tu ma l'ha intervistato neck non ancora ma che speriamo di averlo dai visto che viene con con massimo ma quale rivale rivale di carte forse siamo amici con neck e mi va a cantare ha ragione dai adesso no ti sei offeso ti sei offeso poi glielo diciamo con filippo eh ma glielo ho detto anch'io ho scherzato gli ho scritto la prefazione del suo libro ah fantastico sai che questo non lo sapevo così me lo gioco quando viene a fare l'intervista se mi dai qualche informazione vedi sono anche un libro perché abbiamo avuto due incidenti alle mani simili e quindi abbiamo cominciato a sentirci a scambiarci le nostre esperienze alla fine mi ha chiesto se potevo scrivergli due righe sulla prefazione insomma due pagine poi insomma e l'ho fatto e nonostante questo ma anche laura che incalza è proprio andata attorno alla faccenda perché è un po competitivo Gianni lo amiamo ha un carattere meraviglioso però quando è lì che guarda i numeri e le cose un po' scherzo e un po' no ci sta però ha ragione ci siamo sentiti nel periodo di Sanremo io stavo arrivando a Bordighiera e lui insomma mi ha messaggiato poi ci siamo perché ci sentiamo spesso mi sentivate a luna di notte mi ha detto Gianni Morandi stesso che vi telefonavate a luna di notte nel periodo in cui tutte e due eravate più in difficoltà sì sì esatto come va il mignolo e il tuo il mio si piega un po' male ma quel movimento lì lo fai anche tu perché i tutori che lui ha li ho avuti anch'io sono simili un po' le dinamiche del trauma sono un po' simili senti Filippo io ho una domanda è un tipo di incidente quello che ti è capitato che potrebbe capitare a chiunque sarebbe un problema per chiunque qualsiasi mestiere si faccia perché comunque invalidare una mano è evidentemente un problema abbiamo detto tu sei un musicista ragione di più la mano sinistra è quella che serve per toccare le corde della chitarra ora dove hai trovato dal dramma del momento dalla paura dalle preoccupazioni per quello che sarebbe potuto essere un futuro ben diverso rispetto a tutto quello che c'era stato fino a prima dove hai trovato la forza perché questo è poi no il punto di svolta perché l'impegno e la dedizione nel fare gli esercizi che ti venivano assegnati che erano tanti e frequenti è un conto ma trovare la forza di volontà e la determinazione e la convinzione di poter arrivare ad un obiettivo allora guarda non è semplice come risposta da darti perché una parte non lo so una parte penso di sapere quindi la fede e sicuramente la condivisione con gli altri perché a fianco alla mia camera c'erano altre persone che avevano avuto incidenti molto più gravi del mio ed avevano una predisposizione alla reazione straordinaria questo mi ha fatto sì che io pensassi di me quanto io fossi fortunato e quindi mi dava la spinta per reagire se lo può fare lui lo posso fare anch'io lui ha messo una mano sotto la pressa un certo federico che aveva sempre il sorriso sulle labbra rideva aveva una mano che ancora oggi sta si sta curando e mi ha dato la forza quindi la condivisione è fondamentale perché alleggerisce il peso infatti c'è una frase che mi ha colpito del tuo libro che dice il dolore ha senso se lo accetti e lo trasformi in nuove possibilità e soprattutto il dolore va condiviso secondo me il dolore ha proprio bisogno di parole perché se te lo tieni dentro già lo vivi tu inevitabilmente anche se sei circondato dalle persone ma davanti al dolore ci sei tu in quel momento è chiaro che le persone che ti stanno intorno che servono anche a smistare il tuo peso ti fanno vivere diversamente e ti danno anche la misura di una parola che utilizzi nel libro che è l'umiltà cioè la capacità di mettersi anche a disposizione degli altri ma ascoltiamo anche la musica tu che sei uno straordinario conduttore e non solo un cantante affermato nel mondo vuoi annunciare tu la prossima canzone? oltre che un bellissimo uomo oltre che un bellissimo uomo led you, young dior, ma è dior? dior quello di Christian Dior no non è neanche parente no è zero proprio vabbè ascoltiamo erano i Simple Minds su Radio Bruno a Bruno Mattina in diretta con noi c'è Neck che si è goduto anche questa canzone sì tra l'altro piccola notizia quando io ho fatto il Sanremo del 2019 sì quello per intenderci quello triste quello triste che mi dimenticherei volentieri però nell'orchestra c'era il bassista di Simple Minds mi piace molto John Gibling mi farò trovare pronto la suonata lui fantastico che bello vabbè e gli ho chiesto di suonare Big Sleep per te e lui mi ha guardato ok just for you fantastico bello bello un bel momento parli però dei brutti momenti anche nel libro di quel 2019 di quel festival di Sanremo al quale non avresti voluto partecipare e che ti ha messo un po' in difficoltà ecco perché una cosa che non abbiamo detto di questo libro è che ci sono vari excursos nel passato in cui racconti dei momenti privati e privatissimi in cui ti sei sentito in forte difficoltà a mani nude però e a mani nude esatto e nudo completamente sì nel tuo privato come nel tuo lavoro ecco il 2019 è stato per te un anno molto difficile perché hai preso consapevolezza secondo te di qualcosa di nuovo di qualcosa che era cambiato beh sì intanto mi sono reso conto una volta in più che se il cuore non accompagna i gesti diventa tutto forzato ed è altamente probabile che per uno come me le cose poi non funzionano non funzionino come giusto succede nella musica quante volte è successo che le cose non andassero come previsto e quel festival di Sanremo io pensavo comunque di poterlo portare a casa in un certo modo invece poi non è stato soddisfacente per me e per poi anche tutto il lavoro che era stato costruito successivamente e diciamo che l'importante è imparare qualcosa da quei momenti difficili e lo scrivi a tutte le persone che soffrono che stanno vivendo un momento complicato in cui sono messe a dura prova che dal dolore e dalle difficoltà trovino risorse, stimoli ed energia nuova questo si legge all'inizio del tuo libro quello è dedicato soprattutto alle persone che vivono un dolore importante soprattutto quello fisico io ho avuto percezione in parte di un dolore fisico che può portarti comunque a uno scompenso anche mentale l'importante davvero è che dal dolore si riesca a trovare nuova linfa è l'unico modo che abbiamo perché il dolore comunque porti frutto che non sia tempo perso questo intendo col 2019 tra l'altro il festival di Sanremo se lo giudico Mahmood Mahmood che ha vinto anche quest'anno con Blanco dimmi che anche tua figlia Beatrice impazzisce per loro per Blanco soprattutto ecco quindi cosa hai dovuto fare? ho dovuto far fare a Blanco un saluto per Beatrice è stato carinissimo c'è il tuo papone qui che ti salutiamo Blanco è un ragazzo meraviglioso però insomma mia figlia apprezza più Blanco che suo padre ma ci sta ecco ci sta questo è un altro dei brutti momenti è un conflitto generazionale ci mancherebbe altro io sono vecchio è giusto che Blanco che tra l'altro ha una bellissima voce bella la canzone che ha vinto bellissima la canzone che ha vinto devo dire ne parlavo con vostri colleghi la volta scorsa e credo che proprio anche la cronologia degli accordi utilizzati per per la canzone abbia già la caratteristica abbiano già le caratteristiche del classico proprio li avresti votati anche tu quindi sì sì la prima volta che ho ascoltato il pezzo ho proprio detto questa va va su parecchio poi c'è qualcosa di molto particolare perché Mahmood già lo conosciamo un po' di più Blanco la maggior parte delle persone lo ha conosciuto grazie a questa partecipazione gli adulti chi ha avuto la possibilità di ascoltare il suo album mi sono tolto la curiosità di farlo e sono rimasto piacevolissimamente sorpreso dal fatto che questo ragazzo sebbene molto giovane ha 18 anni quindi molto molto giovane sia riuscito a crearsi un modo assolutamente personale di fare musica in un contesto dove diciamocelo francamente sembrano un po' tutte uguali esatto le canzoni e soprattutto il modo di cantare lui è riuscito è riuscito probabilmente ce l'ha è riuscito comunque a personalizzare un suo stile che è assolutamente inconfondibile che è un valore aggiunto a questa canzone e poi gioca anche con il vintage perché se tu fai caso i suoni che vengono usati e che mischia allo urban di oggi sono chitarre elettriche giri di chitarra però è roba che esisteva già negli anni 80 quel modo di fare musica è fantastico mi piace molto io comunque anche per una questione generazionale continuo a scegliere Neck Filippo e anche un bravo buon gustare veramente una relazione pericolosa c'è la canzone ragazzi cosa dite mettiamo un po' di musica vogliamo fare così a presentare Sanremo lo vogliamo Neck io lo vedo lì questo è il comandante Vasco Rossi con un senso e io sono ospite dei miei amici qui a Radio Bruno Filippo Neck che prova a fregarci il mestiere guarda qua quanti messaggi che dicono quando torni a condurre il programma su Radio Bruno la sera quando ti potremo riascoltare torno la sua ombra incombra ritornerai in realtà però calzante Filippo è qui perché sta presentandoci il suo libro A Mani Nude racconta la sua esperienza vissuta il suo ultimo periodo piuttosto intenso ricco di emozioni esatto uso questa espressione è proprio così allora questa è la storia in questo libro la storia di un uomo che stava per perdere tanto anzi tantissimo ma che alla fine ha trovato se stesso e molto altro questo è in conclusione di tutto il tuo racconto questo è quello che hanno scritto dalla casa editrice no sto scherzando però è un riassunto è questo uomo lo conoscete diciamo che è un cammino ritrovare se stessi è un cammino che credo tutti quanti esatto debbano condurre che non finisce mai certamente ci sono certe esperienze come questa che fanno sì che tu possa da te stesso conoscere qualche cosa in più puoi essere soddisfatto perché dici cavolo in quella circostanza mi sono comportato in quel modo non pensavo magari di reagire in un certo modo oppure puoi anche essere deluso perché ti accorgi che in realtà davanti a certe circostanze non riesci a gestire la situazione diciamo che io sono abbastanza soddisfatto proprio perché come vi dicevo prima a microfoni spenti l'essere stato celere e veloce nell'andare al pronto soccorso di Sassuolo ha fatto sì che comunque la mia mano fosse salva chiuso il momento splatter io sono felice perché quello è un diario a mani nude è un diario dove io uomo di 50 anni ha scritto lo si diceva prima senza filtri senza filtri con grande sincerità e grande spontaneità quello che sentiva di fare ed è stato terapeutico ed è stato terapeutico è come se io avessi bisogno di dire agli amici in questo caso le persone che che leggono il libro che leggeranno il libro ho sentito il bisogno di dire quello che doveva uscire dalla mia pancia anche del privato perché mi ha colpito anche quando parli della crisi con Patrizia è una cosa di cui di solito non si parla mai però è normale nelle storie così lunghe nelle relazioni così lunghe che ci siano degli alti e dei bassi e voi avete vissuto un basso noi abbiamo vissuto un basso abbiamo visto dietro di noi il baratro e abbiamo pensato che forse era giusto che dovevamo dedicare l'uno per l'altro l'amore senza condizioni con uno sguardo vi siete ritrovati esatto come fu la prima volta che ci siamo conosciuti dai non lo siete visti la prima volta allora la prima volta noi ci conoscevamo di vista ma io poi l'ho tra virgolette conquistata era un locale vicino alla tangenziale di Modena adesso io non ricordo come si chiamava e lei era lì e tu era lì no il puro no 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 era una roba simile dai non mi ricordo qui la memoria purtroppo gioca brutti scherzi comunque era una paninoteca una birreria e io vidi questa donna i fari della macchina prendono dritta questa donna che aveva insomma la gonna tacco alto questi occhi profondi e lì ti è scappato e io rimasi e dissi che pezzo che bella ragazza mamma la diciamo bene insomma io la conoscevo già però lei stava vivendo un momento personale difficile insomma ci siamo come se noi ci conoscessimo già da una vita e mancasse solo il contatto ma tu ti sei approcciato a lei ciao io sono nec no lei conosceva sapeva chi fossi io diciamo che siamo entrati in confidenza poi siamo andati a casa di amici e lì io ho suonato ho cantato il fascino degli artisti capito la ragnatela era estesa e lei c'è caduta no è vero però i musicisti guarda quando ci sanno fare con le donne solo perché sa suonare e cantare sapevo suonare sapevo suonare noi siamo colpitissimi intanto perché hanno una sensibilità che di solito è sopra media e poi questa cosa che suonino e possano suonare anche per te è bellissima e cantare dai è un valore aggiunto magari qualcun altro avrebbe fatto avrebbe sfoggiato altre qualità insomma il commercialista il bilancio i conti questa cosa la trovo veramente più una tristezza io penso che piuttosto vai a raccattare fai un copio in colla da qualche parte prendi giù un testo un po' ad effetto e lo fai tu in qualche modo porti a casa i risultati dici leggi il giornale se no diamo per scontato che il commercialista sia una persona così fredda così perché lui ha fatto ragioneria si è sentito si ma non lo ricordo se mi chiedi ho fatto ragioneria a mia insapura anch'io io sono uno di quelli che ha fatto ragioneria non ha mai fatto il ragioniere in vita io sarei almeno un mese un analista contabile addirittura pensa tu e invece le ragazze però analizzo le ragazze che erano le studentesse della scuola che lui ha scelto femminile prevalentemente c'erano due o tre maschi e uno era lui se lo ricordano molto bene andiamo con la musica bravo cosa dici vai vai va bene c'è una canzone che mettiamo adesso ti piace ballare? sì ma non sono capace beh provaci abbiamo trovato una cosa che non sa fare no ma imparo subito c'è un pezzo che si presta Swedish House Mafia con The Weekend molto pleno fantastico pezzo Swedish House Mafia and The Weekend era Neck che continua a essere in diretta con noi questo mercoledì 16 febbraio a cercare di fregarci il mestiere ma non è vero è il suggerimento che arriva dalla regia entra tu entra tu entra tu infatti quei due hanno fatto due balle allora ci sono le presentazioni del tuo libro in giro e molte sono all'insegna del tutto esaurito a mani nude cosa fai in queste presentazioni? leggi degli alleggi Ense faccio un po' mangio il fuoco esatto poi no allora per esempio il primo appuntamento è proprio qui a Modena al forum Monzani tutto esaurito subito tutto esaurito venerdì dove è previsto un incontro in cui si si parla con un moderatore circa un'ora ci sono naturalmente i posti alcuni sono esauriti e poi c'è il firmacopie classico che è il modo che ho per tornare in contatto con le persone qui c'è un libro non c'è un disco però la dinamica più o meno è la stessa incontrare le persone finalmente a pochi a poca distanza con le dovute mascherine e quant'altro però insomma c'è l'autografo e il ringraziamento personale che va a loro è successa una cosa all'inizio dell'estate Filippo mi dice adesso devo diversificare le esperienze non ho delle canzoni in progetto in questo momento le ho messe un po' da parte dopo due settimane arriva un'estate normale che è uno dei successi indiscussi di tutta l'estate adesso ho un po' paura a farti questa domanda visto che hai detto non c'è un disco siamo al 16 di febbraio Filippo che intenzioni hai da questo punto di vista? ci sono buone intenzioni nel senso che la musica fa sempre parte della mia vita ed è al primo posto e quest'anno quindi 2022 ricorrono 30 anni di carriera e li vorrei grazie ah che bello grazie come 30 anni 30 anni e li vorrei celebrare in qualche modo devo capire come capito? quindi secondo me o starò 365 giorni in radio qui con voi un pochino ci sta da subito nella nostra fascia oraria io te l'ho detto che è un problema secondo me non è un problema è un valore aggiunto se dovessi mai secondo me un pochino ci sta pensando diciamo che stiamo mettendo a punto un po' le varie situazioni infatti dopo devo parlare con con l'editore ok con l'editore ci nascondiamo dietro la porta così cerchiamo di capire cosa diavolo dicano e soprattutto in quale fascia oraria ma la conduzione televisiva anche è il tuo forte tu hai visto in diversi programmi a parte che sei bello come il sole sei proprio anche telegenico fotogenico quindi ci stai benissimo lì ma in che ritmo sei molto bravo sono qui apposta e abbiamo fatto la battuta salutiamo Daniele salutiamo Daniele sì non sta ascoltando il festival di Sanremo abbiamo detto la conduzione potrebbe tentarti una cosa del genere troppo grossa credo che tanti altri miei colleghi siano tentati se avessero un'offerta da parte di qualcuno direttore artistico magari proprio oppure solo conduttore no io mi butterei nella conduzione molto volentieri anche di supporto a qualcuno che magari lo fa da tanto tempo uno meraviglioso come Amadeus insomma che tra l'altro ha portato la terza edizione a un successo storico è stato bravissimo Amadeus è molto bravo è stato molto bravo molto bravo a parte la persona che è ma insomma è molto bravo proprio lui professionalmente capisco che come nella musica ci sia bisogno di fare la gavetta io mi metterei al servizio però insomma come vi ho detto prima sempre a microfoni spenti c'è un'idea un'idea che non riguarda naturalmente Sanremo ma c'è un'idea in generale su qualcosa che sia anche che mi riguardi e che non sia esprimibile attraverso la musica non necessariamente ma comunque questa voglia di comunicare anche guarda lo sforzo che sta facendo per non dire quello che in realtà vorrebbe dire è lì che sta proprio non lo devo dire non lo posso dire ma lo vorrei dire ma non posso dire niente ma perché ancora è in fase di studio insomma quindi ci saranno studiando ci sarà una sorpresa a breve insomma per come si muove intanto uno scrive nec con la c e la k no 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 n e k ecco esatto vabbè ma questo non sa mai niente proprio come il mio collega senti molto bene guarda ti faccio vedere l'orologio perché segna le 11 e 57 senti ho come il sospetto che siamo dobbiamo salutarci siamo addirittura d'arrivo no voi dovete salutarmi non ve l'hanno detto che io rimango no grazie a Nec per essere stato era questa la sorpresa vi voglio bene grazie grazie Filippo a me in un del suo libro 11 e 57 minuti arriva l'informazione ciao a domani ciao 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 ciao